Rilascio su cauzione per Ekaterina Zaspa, una dei 30 attivisti di Greenpeace arrestati a settembre in Russia durante un'azione di protesta contro le trivellazioni di Gazprom nell'Artico. La cittadina russa, medico di bordo dell'Arctic Sun, potrà uscire di prigione dopo il versamento di 2 milioni di rubli, circa 45 mila euro, ha stabilito il Tribunale di San Pietroburgo, che ha invece ordinato per l'australiano Colin Russell altri tre mesi di carcere. Questo martedì invece toccherà all'italiano Cristian D'Alessandro comparire davanti ai giudici. Non ho fatto nulla di male, ha detto Colin Russell in aula. Non capisco le ragioni per cui sono detenuto. Ho passato due mesi terribili per nulla. Non ho fatto nulla di male. Gli ambientalisti di Greenpeace furono arrestati dopo l'assalto a una piattaforma petrolifera di Gazprom nell'Artico. Il comitato investigativo russo aveva annunciato il ridimensionamento delle accuse da pirateria a teppismo, ma per ora restano in piedi entrambe.